Amici sportivi buonasera e ben ritrovati a Batti 5, ben ritrovati nel salotto dell'Ital Service qui da Rossini TV per tornare a parlare di calcio a 5, di grande calcio a 5 a tinte bianco-rosse e per parlare sia della prima squadra, della formazione impegnata nel massimo campionato di Serie A ma anche quest'oggi di molto altro, in particolare avremo modo di parlare di Under-19 che partecipa al campionato nazionale e sta andando molto molto forte questo magari già lo sapete ma andremo nel dettaglio con un ospite che a breve vi presenta e poi parleremo anche di qualcosa che va un po' attorno all'Ital Service inteso come prima squadra, come campo perché lo scopriamo fra poco. Doyle, benvenuta ai nostri ospiti e quindi per primo ovviamente saluto Simona Marinelli, la moglie del presidente Lorenzo Pizza buonasera, potremo chiamarla da adesso in poi se ce lo consente vice presidentessa perché insomma così abbiamo simpaticamente a chiamarla in questi anni a fianco dell'Ital Service Pesaro e buonasera, ben ritrovato a Juan Battista Crespo per tutti noi, Juan Bacrespo buonasera, grazie mille tecnico appunto dell'Under-19 dell'Ital Service Pesaro ecco perché la premessa che vi ho fatto insomma abbiamo tanta carne al fuoco, non solo la prima squadra di cui ovviamente andremo a parlare voglio iniziare appunto parlando con Simona perché abbiamo detto è la moglie del presidente Lorenzo Pizza ormai è una tifosa, è una dirigente, è una collaboratrice preziosa dell'Ital Service Pesaro e quindi un'anima, una colonna portante anche della società vorrei capire come si vive questa esperienza da moglie di un presidente tra l'altro molto vivace come Lorenzo Pizza allora scusate sì, effettivamente si vive a 360 gradi e appunto lui mi ha coinvolto totalmente infatti tu prima mi hai definita tifosa molto appassionata direi sì, a volte fin troppo molto partecipe perché poi comunque ti coinvolge e poi è così bello appunto dividere questa passione con mio marito che come ho sempre detto lui è un vulcano ti travolge quindi sicuramente insieme viviamo questa avventura sportiva in maniera molto passionale anche io volevo dire vulcano ma non mi sono permesso io ho lasciato l'incombenza alla signora Pizza così almeno io non passo i problemi ciao presidente, un saluto sono sempre molto moderato sappilo perché sto molto attento battute a parte però tifosa moglie del presidente ma anche un elemento prezioso per la società perché da quanto ci risulta da quanto sappiamo svolgi anche un ruolo pratico organizzativo ai compiti importanti all'interno della società sì mi occupo sia di tutto l'aspetto amministrativo quindi ci scherziamo su questa cosa perché sono io quella che effettua i bonifici i pagamenti quindi con il marito che sta lì a dire controlla bene tutto questo si paga questo no in realtà si paga tutto soprattutto poi la priorità sempre giocatori staff quindi comunque quindi l'aspetto amministrativo e poi un po' anche tutto il contorno un po' la logistica aiuto per organizzare le trasferte sì esatto le trasferte è un bel impegno sì sì dopo qualche volta i rapporti con la divisione calcio 5 con quello che riguarda un ruolo insomma in segreteria ad ampio raggio però insomma esatto e ovvio che la domanda terza domanda nasce spontanea come si fa a coniugare tutti insieme famiglia perché avete una bellissima famiglia il lavoro all'interno della società il ruolo fra virgolette di tifosa non deve essere semplice riuscire a coniugare tutti insieme sì la famiglia vabbè occupa sempre il primo posto però poi coinvolgiamo anche la piccolina e quindi sì si riesce a fare tutto devo dire che sono fortunata perché infatti Lorenzo dice sempre io faccio io faccio un part time poi lui mi dice faccio il part time del part time va bene l'interno della famiglia è normale scherzare anche su queste cose fa parte del gioco quindi io insomma tutta la mattinata mi impegno sono a little service e poi dopo insomma si concilia bene tutto diciamo che perlomeno avete gli stessi più o meno ritmi insomma perché va tutto di pari passo l'azienda la società e la famiglia tutto tutti insieme Wamba tu fai parte di questa grande famiglia in questo caso fra virgolette quindi in senso sportivo e quest'anno state disputando cambiamo quindi completamente argomento il campionato under 19 con ottimi risultati siete al primo posto con una partita in più perché avete anticipato nel weekend scorso la sfida con la Tenax Castelfidata avete vinto anche questa e quindi ora avete un più tre sulla seconda avevamo già parlato di voi qualche mese fa aggiornaci sull'evoluzione della situazione perché c'era ambizione e voglia di fare un bel campionato mi sembra che al momento state rispettando le attese sì infatti questo è l'area adesso siamo primi per due settimane visto che abbiamo anticipato questa giornata contro la Tenax Castelfidardo e siamo primi è un posto che noi veramente non ci aspettavamo all'inizio ma abbiamo lavorato molto duro come gli avevamo parlato un tempo fa la prima volta che sono venuto qui e stiamo raccogliendo i frutti di una comunione molto buona che abbiamo tra tutti i giocatori tra lo staff e stanno uscendo le cose per bene qual è l'aspetto in cui la vostra squadra secondo te è cresciuta maggiormente perché ci sono dei giovani talentuosi l'abbiamo visto anche in prima squadra li vediamo costantemente in distinta abbiamo visto anche in campo in alcuni casi un tuo giocatore e qual è l'aspetto in cui però sta crescendo maggiormente soprattutto nell'aspetto difensivo nell'aspetto caratteriale siamo una squadra molto tosta infatti siamo una squadra che meno reti prende abbiamo lasciando stare la partita contro il Sant'Agata che è diventato un po' così abbiamo fatto un 12-16 prendiamo meno di due reti a partita che immagino ti avrà fatto arrabbiare allora se avete preso 6 gol no eh abbiamo approfittato per fare girare la squadra in un modo diverso provare modi di giocare diversi prende una partita un po' più rilassata che è un campionato molto torto ci voleva una partita un po' diciamo più pazza più così più vivace e quindi il 2-1 con la Tenax Castelfidardi invece magari rispecchia in una sfida difficile perché la Tenax è ricca di buonissimi giocatori ha una buona classifica poi l'andremo a vedere e ti soddisfa pieno perché è una partita vinta prendendo solo un gol nel calcio 5 sappiamo che è sempre è stata una partita molto dura infatti il primo tempo giusto abbiamo finito con il 2-1 e poi il secondo tempo abbiamo avuto delle belle opportunità per fare 3-4 anche qualche gol in più non l'abbiamo segnato alla fine abbiamo sofferto tanto con il portiere in movimento loro però l'avete difeso bene cosa stai rubando in particolare da mister Colini quindi da questa esperienza con l'allenatore che tu tra virgolette ti sei trovato visto che già hai iniziato questa avventura in bianco rosso l'anno scorso qual è la cosa che stai cercando di rubare ce ne sono mi sa tantissime però in particolare se c'è qualcosa su cui ti sei focalizzato soprattutto i concetti difensivi che era una cosa che io avevo lavorato molto di meno in passato quest'anno mi sono trovato davanti con una quantità di concetti nuovi che mi stanno facendo crescere tantissimo come allenatore il rapporto con lui com'è? cioè dialogate avete un bel rapporto con mister Colini ti è d'aiuto anche nell'attività dell'under 19 sì mi trovo molto bene con lui parliamo spesso è tutto quello che gli chiedo pure lui ogni volta ogni tanto mi dice mi dà qualche consiglio quando ha visto qualche partita quando si ferma a vedere qualche allenamento mi dice abbiamo un bel rapporto insomma a proposito di Fulvio Colini torno da Simona oltre ad essere l'allenatore di Tazzervis Pesaro mi sembra di capire vedendo a fine gara sentendovi parlare che è nata anche una bella amicizia da parte vostra con il tecnico quindi non c'è solo un rapporto staccato e tra virgolette normale fra società presidenza e allenatore ma anche si è creata una certa amicizia appunto sì sicuramente c'è adesso un rapporto amichevole che non avremmo mai io personalmente non avrei mai pensato perché da da spettatrice insomma guarda Lorenzo quando mi ha coinvolto in questa cosa del calcio a 5 mi ricordo che mi disse diverso tempo fa mi ha fatto vedere la foto e mi disse insomma diverso tempo fa sai questo Fulvio Colini l'allenatore più vincente no e noi ci dicevamo e chissà chissà mai chi verrà mai appeso no vabbè lui diceva chissà portarlo appeso ma va non verrà mai impossibile appeso Fulvio Colini quindi lo guardavo lo vedevo dalla foto e adesso insomma vederlo poterci parlare anche perché poi una persona con la quale si parla bene vabbè se gli sei amico altrimenti è un po' più dura no è battuta mister saluto anche te praticamente finisce il mio lavoro oggi alla fine della puntata vi saluterò d'accordo continuiamo fino a fine puntata no dicevo quindi adesso appunto averlo anche no la prima volta quando è venuta a pranzo a casa nostra io ho detto mamma mia chi l'avrebbe mai detto da da vederlo in fotografia adesso avere Fulvio Colini a pranzo e poi alla fine c'è questo rapporto di amicizia mi sa che lui per quello che abbiamo imparato anche a conoscerlo noi in maniera un po' più distante è così dovrebbe essere così c'è una persona che nel suo lavoro è molto precisa molto attenta anche severa dove serve quanto serve ma fuori se entri in sintonia credo che sia una persona molto aperta anche al confronto al dialogo e quindi a un rapporto nuovo di amicizia che fra presidenza e allenatore non è così scontato perché poi magari in momenti di difficoltà o partite che sono andate non per il verso giusto magari può essere di difficile gestione la doppia situazione questo per aprire e chiudere il discorso riguardo a Fulvio Colini ora invece voglio aprire una bellissima parentesi questa è indiscutibilmente fantastica sto parlando di quanto è accaduto la settimana scorsa al Palanino Pizza e qui Simona ci può aiutare molto perché era protagonista abbiamo visto nelle foto quindi testimone perfetto di quanto è accaduto cosa mi riferisco mi riferisco al fatto che ecco qua delle bellissime immagini intanto del pubblico al Palanino Pizza mi riferisco ai giovani del settore giovanile dell'Ital Service Pesaro che a sorpresa si sono recati all'impianto e hanno consegnato una medaglia speciale a tutta la prima squadra dopo eccola qua molto bene il primo piano sulla medaglia dopo la sconfitta in finale rigori con la Real Rieti credo che sia stato un momento emblematico soprattutto per voi che siete per te e per tuo marito sì sicuramente volevamo far sentire la nostra vicinanza ma noi ma soprattutto i ragazzini i bambini e tutti i genitori perché come ha detto belle parole giustamente come ha detto Lele Ortolani la sera lì al palazzetto ha detto per noi domenica sera gli ha detto avete vinto voi ed era così abbiamo voluto far sentire in questo momento difficile perché perdere rigore è bruttissimo diciamo proprio i rigori alla fine sono un po' infami se vogliamo non premiano la prestazione quindi volevamo far sentire insomma la nostra vicinanza il calore ma soprattutto è partito proprio dai bambini dai ragazzini di fare questa cosa la volontà di omaggiarli è bellissimo quello che c'era scritto nella medaglia alcune volte si vince tutte le altre volte si impara quindi un messaggio anche abbastanza molto profondo e molto significativo sì e infatti a un giocatore che mi si è avvicinato per ringraziare io ho detto questa è Pesaro perché noi questo penso che possiamo andare molto orgogliosi di questo di questa giornata non solo ecco questa è la foto emblematica che racchiude un po' tutto quello che abbiamo detto con dirigenza staff tecnico giocatori vestiti in borghese con in tuta i ragazzi del settore giovanile tutti insieme su una tribuna del Palanino Pizza insomma una unione che testimonia anche torno anche da Uamba la crescita della società non solo dal punto di vista della prima squadra che ovviamente è il fiore all'occhiello è giusto che sia così è la punta di diamante però a 360 gradi perché quando è arrivato Lorenzo Pizza il settore giovanile c'era faceva il suo però non c'era l'ambizione di farlo crescere di fare dei passi in avanti ora invece sì si vede quest'anno un grande miglioramento in questo fatto il semplice fatto di portare tutte le squadre a allenare all'interno del Palanino Pizza qualcosa di importantissimo è anche raro tra l'altro in Italia credo che siano difficili i palazzi di solito sono da distribuire fra tante realtà tante associazioni se lo sto vedendo qui in zona sia una cosa che si fa spesso è qualcosa molto importante perché dopo è lì dove vai a giocare dove veramente si fa il calcio a 5 tu segui anche le giovanili quindi vai a vedere per capire o dai anche una mano tra virgolette da allenatore dell'under 19 alle squadre più giovani per creare una collaborazione una sinergia anche fra le varie categorie oppure no? io alleno pure l'under 15 quest'anno e poi veramente non è che vado a vedere le altre partite perché non ho così tanto tempo la partita dell'under 15 l'under 19 prima squadra tanti allenamenti ma comunque sempre sto aperto se qualcuno mi vuole fare mi chiede consigli a disposizione una bella famiglia quella compreso il settore giovanile ora torniamo all'under 19 andiamo a vedere come vi avevo promesso risultati classificati sono tutti i numeri il prossimo turno e un'occhiata anche ai marcatori perché no per sottolineare il valore di alcuni giovani talenti dell'Ital Service Pesaro partiamo dai risultati della dodicesima giornata in cui è escluso il recupero ovviamente di cui abbiamo parlato prima quindi l'ultimo turno disputato da tutte le squadre Corinaldo che ha battuto Buldo Glocrezia 5 a 1 la Tenax Torfit Castelfidardo che ha vinto 8 a 3 con il Cussancona 5 a 5 fra Eta, Beta, Fano e Faventia e il 9 a 1 della vostra rivale Limolese sul campo della Torre Savio Cesena e il 12 a 6 dell'Ital Service Pesaro sul campo del Sant'Agata a cui faceva riferimento poco fa Mister Wamba Crespo in classifica considerando invece qua si e c'è l'asterisco a ricordarlo il recupero vinto dai biancorossi scusate l'anticipo vinto dai biancorossi con la Tenax l'Ital Service pesare prima con 37 punti in 13 partite giocate quindi 12 vittorie e un pareggio con Limolese che è seconda 34 con una gara in meno poi più staccate ci sono due marchigiane Cussancona e appunto Castelfidardo quindi Sant'Agata Cesena ETA-Beta con 16 punti altre marchigiane Corinaldo e Bulldog con Crescia a 7-6 punti chiude Faventia con 2 punti guardiamo anche al prossimo turno così completiamo il quadro del vostro campionato il girone G dell'Under-19 nazionale derby con l'ETA-Beta in casa per l'Ital Service Pesaro mentre Limolese ospita Castelfidardo quindi esame abbastanza importante poi Faventia Corinaldo Cussancona Sant'Agata e Bulldog Lucrezia Torres Cesena dicevo volevo dare un'occhiata anche ai marcatori per menzionare alcuni dei protagonisti della rosa bianco-rossa qui abbiamo la classifica dei giocatori delle squadre marchigiane quindi isolati rispetto agli altri marcatori delle altre squadre Cancrini del Cussancona comanda con 15 reti poi Diotalevi e Polidori del Pesaro con 13 gol via via troviamo a quota 10 anche altri due dell'Ital Service Borea e Ugolini tutti giocatori che conosciamo molto bene perché tutti in un modo o nell'altro in questi anni sono stati i protagonisti con la maglia delle giovanili dei Diotal Service Pesaro e non solo ecco Vittoria nel passato l'abbiamo visto la classifica l'abbiamo vista ora c'è un derby con l'Eta Beta l'obiettivo è confermarsi perché io non dimentico che c'è un grande sogno che comunque sia viene cullato sicuramente nel cuore e nella testa di Guamba Crespo è certo una partita che se guardiamo la classifica siamo obbligati a vincere poi è chiaro che ogni partita bisogna giocarla perché non sai cosa ti puoi trovare in campo il giorno della gara ma abbiamo l'obbligo con noi stessi e con tutti di vincere quella partita e seguire puntando a vincere questo campionato e poi seguire puntando anche perché c'era il sogno io mi ricordo che insomma io ti feci una domanda questa società ha vinto nella versione Pesaro Fano di qualche anno fa lo scudetto Ander 21 che può essere un po' equiparato a questo campionato nella versione moderna se c'era il sogno di puntare al primo posto e tu rispondesti qualcosa del genere siamo qui per sognare per giocarcela il nostro obiettivo sarebbe diciamo il nostro obiettivo top sarebbe vincere questo campionato del girone e andare in finale della Coppa Italia e poi vedere sarà che sei di fianco alla presidentessa e sei tirato un po' il remi in bar sei andato un po' più umile un po' più moderno quello sarebbe il nostro sogno poi vediamo una volta se arriviamo a questi due traguardi vediamo dove possiamo andare fino ti ho fatto diventare rosso ti capisco è giusto che sia così sono rosso anch'io insomma quando dico qualche cavolato di troppo ci stai a parte del gioco si scherza adesso andiamo a parlare di Serie A quindi torniamo seri e guardiamo anche al prossimo turno della prima squadra la squadra guidata da Fulvio Colini perché è la prima di tre partite di fuoco l'abbiamo già imparato nel girone d'andata una dopo l'altra da bere tutte d'un fiato per capire che tipo di campionato può fare nella regular season ovviamente la prima squadra quindi l'Ital Service Pesaro in Serie A dunque focalizziamoci sul prossimo turno Feldi Eboli contro l'Inx Latina si gioca venerdì sera 8 febbraio alle ore 20 e 30 l'Ital Service Pesaro ospita al Paranino Pizza la Lollo Caffe Napoli alle ore 20 e 45 Acqua e Sapone Unigross contro Meta Catania quindi la capolista all'esame però casalingo con Catania poi Maritime Augusta contro Lazio Real Arzignano Civitella e Real Rieti la rivincita della semifinale di Coppa della divisione che aria tira a casa pizza presidentessa c'è voglia di vincere questa gara contro secondo me la squadra fortissima lo dice la classifica ma anche più forte di quello che può aver detto la classifica fino ad ora sì allora la voglia sì è tanta di vincere e quindi anche per riscattarsi dalla delusione della Coppa della divisione sicuramente consapevoli di appunto delle di affrontare una squadra molto forte una squadra che si è rafforzata e quindi anche lo stesso mister Colini appunto ci ha messo in guardia su questo siamo consapevoli di questo ma sicuramente crediamo nelle grandi capacità dei nostri giocatori del talento e della forza della grinta che che hanno appunto io ho detto abbiamo perso però io credo che la nostra squadra abbia tanto da dimostrare e possa dimostrare tanto perché è una squadra il potenziale è importante ascoltandoti Presidentessa mi rendo conto che comunque sia la sconfitta ai calci di rigore ha lasciato amarezza parecchia non vorrei troppa questa è la mia la mia opinione nel senso che comunque sia credo che ci sia anche un grande orgoglio da parte di tutti di essere arrivati innanzitutto a giocare una finale in casa e poi rispetto a un altro grande desiderio del Presidente e un po' di tutti di fronte ad una cornice di pubblica magnifica perché mancava poco per arrivare alle 2000 persone due o 300 persone c'eravamo e questo se pensiamo quando avete preso in mano la società mi rivolgo ormai al plurale era non dico impensabile ma poco ci manca sì sicuramente infatti allora io lo ripeto mi ripeterò però indubbiamente il merito di mio marito per quello che ha fatto per tutto il lavoro che ha fatto e che sta continuando a fare quindi per tutta la passione che ci mette anche le risorse l'impegno sotto ogni punto di vista economico di sacrificio eccetera e poi indubbiamente una squadra come quella di quest'anno è una squadra ancora più sempre più competitiva quindi è sicuramente una squadra che è uno spettacolo venire a vedere voglio dire quindi siete orgogliosi di quanto viene fatto e quanto è accaduto anche di quanta gente è arrivata al Palazzo molto molto infatti ho detto proprio che la nostra vittoria poi più grande è stata quella di portare tantissimo pubblico al Palanino Pizza a vedere questa finale queste Final Four e abbiamo visto gente che si è appassionata si è divertita ci sono arrivati tanti complimenti e questo è stato molto bello è stato un grande successo e quindi vedere il Palanino Pizza così pieno è veramente un bello spettacolo e già in Italia è raro insomma situazioni del genere sono davvero molto rare quindi c'è assolutamente di che essere orgogliosi torniamo al campionato quindi rifaccio un passo in avanti visto il prossimo turno rivediamo anche la classifica quindi la situazione da cui si riprende a giocare dopo due settimane di sosta la Coppa della Divisione e l'impegno della Nazionale la nuova Nazionale targata Alessio Mustico l'Acqua e Sapone che comanda 34 punti il Real Rieti seconda 29 i tal service pesero terza a quota 28 Napoli 27 punti ma ancora manca il verdetto della giustizia sportiva relativo alla partita che Napoli stava giocando in casa della Meta Catania mi sono informato dovrebbe essere la settimana prossima il momento buono per capire come quale sarà il risultato finale di questa gara poi Maritano Augusta 26 Feldi Eboli e Meta Catania appunto con l'asterisco 20 punti Kamedosson 18 punti ma occhio alla Kame perché l'abbiamo vista nell'ultimo periodo è una squadra più forte della sua classifica attuale Civitella 14 Latina 11 Real Arzignano 5 e Lazio 4 quindi è una classifica che in questo momento Wamba vede ti coinvolgo anche sull'argomento ovviamente prima squadra vede il Pesaro al terzo posto secondo te può e deve fare di più questa squadra? in questione del ritorno è vero che ci abbiamo lasciato qualche punto che lo dovevamo prendere nel giro della gambata no in questo giro all'inizio del giro del ritorno soprattutto la partita di Latina lo parlavamo prima non tre punti dovevamo prendere poi Catania è un pareggio che pure ci può stare bene come è stato tutta quella settimana che non si doveva giocare che alla fine ci hanno detto il giorno prima che dovevamo partire è stato un po' così che hanno spento le luci del palazzetto fino al primo tempo poi è stata una situazione molto particolare tutto intorno quella partita quindi un pareggio che è quello volendo ci può stare non prendere come un disastro viceversa la sconfitta che pesa un po' sul bilancio reale della classifica è quella in casa della Tina pure il Meta è una bella squadra che ci ha fatto sentire qui all'andata contro di noi ti faccio una domanda difficilissima e semplicissima allo stesso tempo secondo te questa squadra può vincere lo scudetto? dobbiamo puntare arrivare fino in fondo poi bisogna vedere il calcio per ammire c'è questo stai dicendo noi dobbiamo puntare arrivare in finale e poi una volta che sei lì vedere come gira tutto sappiamo come è il calcio abbiamo visto questa partita contro il Riete tutta la partita davanti noi e poi ti pareggiano un minuto e mezzo della fine a Rigori a Rigori è una bella una bella a fine del calcio così lotteria prima di tre gare questa dicevamo il trittico infernale era stato definito così nel girone d'andata perché ora Napoli poi c'è la sfida di nuovo in casa con l'acqua e sapone Unigros la capolista in posticipo lunedì nel turno successivo quindi parliamo di lunedì 18 aiutatemi febbraio vado a memoria alle ore 20.45 in diretta Sport Italia e poi in trasferta in casa della Real Rieti venerdì 22 febbraio quindi tre gare con le altre tre che occupano i primi quattro posti della classifica tre partite da cui oltre a una situazione di classifica Wamba bisogna anche mettere lì il termometro in questi confronti diretti dello spessore della squadra adesso arriva diciamo il periodo più duro della stagione dobbiamo affrontare di fila tre o quattro squadre che sono lì al top ma la realtà è questa se dobbiamo puntare dobbiamo stare in alto dobbiamo affrontare dobbiamo farci valere lì in quelle partite quanti punti bisogna fare Presidentessa in queste tre gare 6, 9, 8 6, no 8 impossibile tutti e 9 però vabbè rimanendo cerchiamo quindi mettendo proprio il massimo della positività si spera però vabbè consapevoli della della difficoltà e beh insomma adesso onestamente queste due in casa sarebbe no davanti al nostro pubblico sarebbe bello niente a sorridere parecchio niente a sorridere andare a vittima a rieti e riprendersi un po' di rivincita insomma non sarebbe male per niente però vabbè però forse ci sarà Collini che in questo momento si sta facendo gesti scaramandici limitiamoci a questo allora mi starà facendo il trittico inizia proviamo a tornare sul pezzo il trittico inizia come detto con la sfida contro Napoli per conoscere e ricordare rifrescare un po' la memoria su chi andrà ad affrontare la squadra trainata in campo da capitano e tutti gli altri suoi compagni ci rivediamo gli highlights della gara di andata anche se sindora vi ricordo che Napoli è cambiato si è rinforzata non poco il lollo caffè Napoli punta a riprendere la sua marcia dopo la prima sconfitta in campionato subita per mano del Maritime Augusta l'Ital Service Pesaro vuole restare a punteggio pieno per mantenere il comando della classifica possibilità di transizione per il Pesaro Trondini Dandel per vie centrali Duetta con Alemao ma perde il pallone attenzione il sinistro di Wilhelm ancora in banda sinistra per Onorio l'errore di Onorio attenzione Salas il break ci arriva Miarelli al Palanino Pizza contro la metà Catania Bricositi qui la traversa clamorosa di Salas qui recupera un errore Salas Onorio va via in banda a Mancia Onorio mantiene il possesso il destro cresciuto nel settore giovanile del Pescara giocava con Verrati qui il destro di Tony Dandel lo scarico aperto a borda attenzione a Fortini sul secondo palo miracolo di Molitierno Marcellinio dai e vai la stersata Salas Onorio Caputo ancora Molitierno poi Onorio al volo può ripartire l'Ital Service Pesaro Marcellinio per Salas sul secondo palo incredibile legno di Onorio arriva la sirena di metà tempo si va all'intervallo Lollo Caffè Napoli zero Ital Service Pesaro zero rimessa laterale per Mancia il tocco il gol Franco Jelocic Mancia ha battuto la rimessa laterale da Stuzia ha pescato Jelocic ha incollato il pallone benissimo col sinistro Taborna sul secondo palo e arriva il pareggio immediato di Marcellinio 3.25 è durato 11 secondi il vantaggio del Napoli qui c'è un fallo giallo giallo c'è un rosso perché Marcellinio giustamente era già stato ammonito per il Lollo Caffè Napoli il sinistro Rialemao Jelocic Saras prova il sinistro il pallone passa sotto le gambe Rimierelli torna in vantaggio il Lollo Caffè Napoli in meno di 8 minuti della ripresa Peric sradica bene il pallone a Onorio Peric il destro Luca Peric al minuto 7.27 porta via il pallone a Onorio se lo porta sul destro il diagonale del 3 a 1 è stata un pezzo di bravura qui Fortini a campo e trova il 3 a 2 lo ha pescato Onorio tra le linee Fortini ha domesticato il pallone Duarte il destro la botta terrificante di Duarte la mette all'angolino alla sinistra di Michele Miarelli Salas Fortini il tocco attenzione Matteo a campo il 4 a 3 Jelosic va via Miarelli bravissimo a sporcargli il pallone è solo al centro Italservis Pesaro attacca in modo forse è nato e su il secondo palo arriva il pareggio di Tony Dandel a 46 secondi dalla fine non c'è più tempo arriva la sirena di fine gara Wamba una partita importante fu quella adesso l'abbiamo mandato in servizio per far rivedere un po' alcune caratteristiche del Napoli una squadra che è anche cresciuta da quella volta come è cresciuto il Pesaro però insomma fu un primo importante segnale dell'Ital Service capace di rimontare anche in trasferta in casa di squadre molto molto forti sì noi caratteristamente siamo molto forti noi abbiamo visto che non lasciamo mai una partita come Persa l'abbiamo dimostrato sia a casa del Napoli che a casa dell'Acqua Sapone che a casa del Maritano partite che hanno girato così non proprio semplici che hanno girato molto dure che erano una svantaggio in minuti finali con il portiere in movimento l'abbiamo portato sempre in positivo guardando la partita di venerdì cosa bisogna stare attenti in particolare cosa temere del Napoli loro hanno un bel gioco sono gente veloce che hanno un bel uno contro uno soprattutto Dimas e Sulito sono giocatori molto disequilibranti uno contro uno bisogna fare tanta attenzione su questo fatto attenzione quindi ai duelli individuali allora andiamo a vedere la locandina per ricordare per fissare l'appuntamento insieme a tutti i tifosi dell'Ital Service Pesaro venerdì 8 febbraio alle ore 20.45 tutti al Palanino Pizza per questo super big match Ital Service Pesaro contro Lollo Caffè Napoli l'ultimissima domanda a Simona per sorridere per chiudere con il sorriso vorrei sapere questa domanda sono scritta cosa leggo testualmente cosa accade a Casa Pizza quando l'Ital Service vince e cosa accade quando l'Ital Service perde se ci sono delle cose specifiche che accadono se bisogna chiamare a riparare il vetro delle finestre quando si perde oppure non lo so allora è lunga allora il peso tempo vuol dire che è lunga quando vince c'è tanta adrenalina e quindi più o meno sia quando vince che quando perde non si riesce poi ad andare a letto subito siamo ancora lì a riparlare la giornata si allunga questo è il primo punto insomma dopo la sconfitta per dire adesso prendendo ad esempio una sconfitta dopo quella con In Lattina io ho sentito voci insomma la voce tremavano sì tremavano ho sentito battere un po' i pugni quindi insomma mi sono sentita e ho visto il presidente Dante che anche mia figlia diceva ma mamma mi sa che non abbiamo vinto mi sa che non è andata bene quindi sicuramente tanta tanta partecipazione la passione che trascina il presidente e quindi poi tutta la società oltre che la famiglia allora io vi ringrazio per essere stati con noi ringrazio Simona ringrazio Uama però oggi chiudiamo chiudiamo questa puntata in maniera particolare perché questa puntata numero 18 che venuta in questo martedì 5 febbraio ha una chiusura e quindi un modo davvero particolare di essere di essere chiusa cosa succede cosa succede cosa succede cosa succede non so che non è una cosa molto professionale però io a nome di tutta Rossini TV volevo farti gli auguri visto che oggi è il tuo compleanno quindi questi Simona sono per te auguri alla presidentessa Simona Pizza auguri Simo grazie mi accodo ovviamente agli auguri non posso muovermi perché sono microfonato quindi comunque lancio da qua i miei auguri e questa è una sorpresa che volevamo fare da parte di tutti noi insomma sono due anni che seguiamo questa squadra ci fa molto piacere ormai ci sentiamo una grande famiglia e quindi visto che oggi registriamo la puntata e siamo questa sera appunto su Rossini TV il tuo compleanno ci faceva piacere farti un piccolo pensiero giornata quindi grazie molto piacevole e quindi con questa sorpresa con la direttrice al mio fianco che piacere oggi vi rende un studio magnifico grazie anche a Wamba ripeto per essere stato con noi con gli auguri a Simona Marinelli vi diamo l'appuntamento come sempre con Batti 5 e con Rossini TV buona serata grazie a tutti